Musica Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Zoom. Ci troviamo all'interno di Palazzo Bernardini, la sede lucchese di Confindustria Toscana Nord. È in programma la conferenza stampa per la presentazione dei dati relativi alla produzione delle industrie nei primi due semestri del 2016. Andiamo a vedere quali sono questi dati nelle aree delle province di Lucca, Pistoia e Prato. I dati presentati dal Centro Studi di Confindustria parlano di una leggera flessione nella crescita della produzione nell'area Toscana Nord, diminuita fino ad un più 0,8% nel secondo trimestre dell'anno. Il dato peggiore tra le tre province considerate lo fa registrare proprio Lucca, con una crescita scesa ad un minimo del più 0,1%. Scendendo nel dettaglio si scoprono i comparti che stanno meglio e quelli che stanno peggio. Il settore cartario frena, sì, ma si mantiene comunque in crescita. E quello dei macchinari per la carta viaggia ancora su un ottimo più 9%. Le cattive notizie arrivano dalla produzione della nautica, che nel secondo trimestre è andata in perdita a meno 2,2%, mentre quella della Pideo ha fatto registrare un vero e proprio tonfo, segnando un meno 9,7%, con previsioni per il futuro affatto incoraggianti. Ma a cosa è dovuta questa frenata nella produzione delle imprese? Lo abbiamo chiesto alla vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Cristina Galeotti. Ma una frenata che è allineata a quello che sta succedendo anche a livello nazionale. Principalmente abbiamo una domanda interna che è poco vivace. Il Paese cresce ormai da tempo in modo inferiore rispetto agli altri Paesi europei, anche al resto del mondo. Come ho ricordato anche durante la conferenza stampa, l'Italia dal 2000 al 2017, quindi inserendo anche la previsione sul 2016-2017, andando a sommare tutti i vari sottoperiodi, arriva a un più 0,7%, contro una media europea del 18%. La Germania ha fatto ancora meglio la media europea, e la Francia intorno alla media europea stessa. Quindi abbiamo un Paese che ormai da anni, quindi non da tre mesi o da sei mesi, è in forte difficoltà e ha problemi sia nelle fasi cresce, per esempio nel periodo del 2000-2007, dove è cresciuta meno degli altri, sia nella fase di recessione, dove perde più degli altri, sia anche nella fase di ripresa, dove manifesta degli incrementi molto contenuti. E questo naturalmente si riversa sulle nostre aziende, sulle aziende soprattutto che lavorano sul mercato interno, e purtroppo anche su quelle che lavorano sul mercato estero, un mercato che fino ad oggi è cresciuto a dei tassi importanti, hanno qualche incertezza sul proprio futuro, in quanto ci sono dei problemi per quanto riguarda naturalmente i Paesi arabi, ci sono dei problemi sulla Russia, ci sono dei problemi sul Nord Africa, la Cina cresce a dei tassi meno importanti rispetto al passato, gli Stati Uniti sta consolidando la crescita dell'ultimo quinquennio, quindi naturalmente anche qui i tassi si stanno leggermente riducendo. Quindi è un andamento che è in linea con quello che sta succedendo nel nostro Paese. Ma perché Lucca, secondo i dati che avete fornito, frena di più rispetto a Pistoia e Prato? Ma qui poi bisognebbe scendere in diversi settori. Noi abbiamo settori che sono l'alimentare, la carta, che sono legati estremamente al consumo, consumo nazionale o anche consumo estero, per le aziende che esportano e comunque sono settori questi qui che stanno effettivamente leggermente flettendo nella loro crescita. E poi ci sono settori consumo di base, qui mi riferivo, poi abbiamo consumi diversi come può essere il nautico e il lapidio e in questo caso si sta stando un po' scontando una domanda estera che da primi mesi del 2016 è più contenuta. Però devo dire che Lucca, così come ha perso meno nel periodo di recessione, naturalmente per le caratteristiche, per l'etorologità dei settori, quindi non c'è un settore trenante, c'è sì la carta, ma poi c'è tutta un'altra serie del settore, normalmente poi cresce in modo contenuto nei momenti di ripresa. Abbiamo tirato in ballo carta, macchine per carta, che sono tra le produzioni più importanti della nostra provincia. È vero, parliamo di frenata, però sottolineiamo anche che il settore si mantiene forte, fortissimo e anzi in espansione all'estero negli ultimi anni. Sì, sicuramente. La carta, complessivamente, tra carta uso ondulato e carta uso tiviscio, esprime il 20% del valore aggiunto della nostra provincia, che sono circa quasi 4 mila milioni di euro, 4 miliardi di euro. E una percentuale elevata, circa il 20%, va all'estero. Poi di qui sono partiti anche investimenti diretti per produrre sul posto da parte dei principali gruppi che operano in questo ambito. Per quanto riguarda la meccanica, meccanica più che altro per la carta, negli ultimi anni ha portato a termine diversi impianti in paesi esteri, quindi in Asia, in America, in India, e quindi tutto questo naturalmente è stato positivo e fino ad oggi ha contato molto una domanda internazionale che è cresciuta a buoni ritmi. Chiudiamo con i vostri rapporti con le istituzioni locali, perché voi rappresentate le aziende, le industrie, e quindi vi fate anche portavoci delle richieste alle istituzioni. Si rischia di venire annoia, ma i problemi rimangono sempre quelli della viabilità e dello smaltimento dei rifiuti per quanto riguarda il settore cartario. Sono anni che andate avanti con queste richieste che non sembra che siano ancora state mantenute da parte delle istituzioni. Partiamo dalla viabilità. Dovrebbe essere la volta buona per gli assi viari. Innanzitutto l'associazione, per aiutare le proprie aziende, deve avere un occhio allo sviluppo del territorio. Questo è fondamentale, perché stanno meglio aziende, stanno meglio cittadini. Gli assi viari noi abbiamo sempre ritenuto, e lo riteniamo ancora oggi, perché noi continuiamo a stimolare la realizzazione di questo investimento, che siano fondamentali per il bene del nostro territorio, quindi che possono portare dei vantaggi alle imprese, ma anche ai cittadini. Quindi complessivamente con una qualità di vita migliore e anche poi una possibilità di organizzare il lavoro dalla parte delle nostre aziende in modo migliore. Mi spaventa però il nascere e il proliferare dei comitati anche contro la realizzazione di sottopassi. Ci sono sempre stati. Poi anche qui bisogna vedere, dal punto di vista numerico, effettivamente l'importanza di questi comitati. Perché ci sono, però spesso sono un po' sempre le stesse persone che li alimentano. Ci sono, però a un certo punto bisogna avere il coraggio di iniziare l'investimento, fare le modifiche che sono necessarie, ma iniziarlo. Il secondo punto è quello dello smaltimento dei rifiuti di Cartiera. Purtroppo, tra l'altro, è venuto anche alla ribalta delle cronoche recentemente perché c'è stata un'inchiesta sullo smaltimento illecito di questo tipo di rifiuti. Qui si sta muovendo qualcosa negli ultimi anni? Noi continuiamo anche qui a cercare di trovare soluzioni per lo smaltimento dello scarto del PAL perché riguarda le aziende che lavorano in materia con fibre di riciclo, quindi provenienti dal mascio, dalla raccolta differenziata. Le soluzioni per quanto riguarda il recupero energetico che sono quelle più adottate anche dai nostri competitor anche europei, quindi oltre confine, sono soluzioni che si basano sul recupero energetico o a piedi fabbrica o in un consorzio. Questa opportunità fino ad oggi noi non siamo stati in grado di cogliere, l'abbiamo presentato negli anni, diversi progetti, ma purtroppo ci sono state notevole difficoltà che ci hanno impedito di portarle avanti. Si è affacciato un progetto per il recupero dello scarto di PAL per l'ottenimento di materiali di seconda vita di plastica e il progetto ECHO PAL PLUS, tra l'altro, è un progetto che rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare, in quanto dallo scarto di PAL, perché tra l'altro a sua volta deriva dalla materia di carta recuperata. È un progetto che poi è stato condiviso con diverse realtà del nostro territorio e si basa su una tecnologia innovativa a freddo che attraverso un'operazione di stampaggio dal scarto di PALPER arriva a ottenere degli articoli di plastica, in questo caso è stato scelto di produrre dei pianali in plastica. L'azienda che, dopo terminata la parte di progettazione, inizia la vera fase di industrializzazione, l'azienda che porta avanti questo progetto è la Selene, quindi nota nel nostro territorio, leader nella produzione di imballaggi in plastica, e quindi si spera che nell'arco di un anno o due di poter avere un impianto, un grado di recuperare parte dello scarto del PALPER. Quindi è un progetto che può dare sicuramente un contributo, ma è un piccolo contributo, naturalmente bisogna trovare altre soluzioni. Siamo con Fabrizio Palla, che è responsabile della Confindustria Toscana Norte per quanto riguarda il settore lapidio, che è importantissimo per l'Alta Versilia e per la Garfagnana. Allora, abbiamo visto una frenata più brusca, più accentuata anche rispetto agli altri settori del comparto provinciale. A che cosa la attribuisce? Cioè, stiamo vivendo un clima di incertezza generale per quanto riguarda sia i mercati internazionali, sia per quanto riguarda anche la nostra situazione interna. Dal punto di vista dei mercati internazionali, c'è stata una grossa frenata di un grosso compratore, che è la Cina, che ha avuto delle performance meno buone degli anni passati. Inoltre, il clima così di stabilità politica e di stabilità nei mercati del prezzo del petrolio ha ridotto la fiducia anche dei compratori delle aree medio orientali. Per quanto riguarda invece l'interno, come sappiamo, la vicenda che si è chiusa con il PIT, cioè il piano di governo del territorio della regione toscana, ha lasciato un periodo transitorio in cui in realtà non ci sono delle grosse certezze. Cioè, nella fase ancora transitoria, finché non verranno presi questi piani attuativi da parte dei vari comuni, le aziende non sanno esattamente come operare perché la norma non è una norma chiara in certi punti. E allora che cosa serve per risollevarsi e per ridare fiducia al settore, secondo lei? Ci vuole innanzitutto che noi come imprese non si smetta di avere fiducia nella cosa e continuare a pensare, a inventarci le modalità per campare. Insomma, perché anche se ci sono dei momenti di crisi in variare, è anche vero che il mondo è grande. Bisogna noi stessi non piangerci addosso, cercare di recuperare con delle invenzioni e con degli investimenti, anche questa è la cosa più importante, non perdere la fiducia noi stessi. Dall'altra parte ci vuole però che ci sia un governo regionale e anche un governo locale che ci aiuti con le tempistiche, perché altrimenti noi abbiamo un gap troppo largo, insomma, dal momento in cui benissimo la nuova legislazione, benissimo che si regolamentino le scavazioni, però dopo abbiamo bisogno di sapere come, perché se non sappiamo come non possiamo nemmeno investire. In sostanza i tempi della politica ancora non riescono a seguire quelli delle imprese? Purtroppo questo è il nostro paese, noi ci siamo, lo amiamo tanto, però questa è una delle sue caratteristiche, non è che la possiamo cambiare noi, bisognerebbe fare uno sforzo tutti insieme per cambiarla. Un'ultima considerazione, le aziende del settore lapidio sembra che negli ultimi anni puntino più anche sulla trasformazione del materiale in loco per creare maggior valore, è così? Ma io direi che questa deve essere la nostra strada, insomma, assolutamente. Io parlo di Lucca, perché è quella che conosco, sia per quanto riguarda la Versiglia, sia per quanto riguarda l'Alta Versiglia, noi viviamo una riduzione dell'estrazione, stiamo vivendo una riduzione dei volumi estratti, una valorizzazione del materiale, un aumento degli investimenti al piano per cercare di vendere sempre di più valore aggiunto e lavorato, e cercare di trattenere sul territorio le nostre ricchezze, in modo tale da restituire al territorio quello che dal territorio poi si prende. Ed è tutto per questo appuntamento con Zoom dedicato ai dati della produzione industriale nei primi due semestri del 2016. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.